Si chiama Barocchina ed è la colomba che la pasticceria natale ha realizzato in omaggio alla città barocca. Barocca infatto di golosa voluttuosità e la farcitura, barocco il decoro con la glassatura in crema di vaniglia che ricorda il colore della pietra leccese. Come ogni colomba artigianale che si rispetti, la preparazione ha bisogno di oltre 36 ore per consentire all'impasto di triplicare il suo volume iniziale. Una volta infornate, dopo un'ora di cottura, le colombe devono riposare a testa in giù. Tutta la frutta potrebbe, se la lasciamo dritta, potrebbe scendere giù, quindi affondare tutto quanto. Oltretutto si potrebbe sgonfiare, quindi non essere di un bel effetto visivo. E allora si appendono, così gli rimane la sua forma bella gonfia. Abbiamo fatto un infuso di caffè, tolto la parte solida del caffè, abbiamo messo della cioccolata fondente, l'abbiamo fatto sciogliere tutto insieme. Quindi a questo punto abbiamo ottenuto una cremina. Questa cremina la andiamo ad addizionare con una salsa alla vaniglia ancora, che è stata preparata in precedenza perché deve raffreddarsi e asciugarsi. Adesso procedi alla farcitura. La decorazione è lasciata alla fantasia ed ecco allora servito un barocco tutto da gustare. Un estro creativo, quello del pasticcere Salentino, che gli è valso la fornitura in esclusiva per Fortnum & Mason, il negozio più lussuoso di pasticceria di Londra, che seleziona i migliori prodotti da tutto il mondo, da cui per intenderci si serve la regina Elisabetta. Per loro lo scorso anno nacque la fruttosa, una colomba farcita con pesche albigolche amalgamate all'impasto.